Caterina 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 E porti le sette nelle scuole, e porti i bortensi e i cittadini, con la stessa cura di una madre e con i suoi bambini. Bavarina si nasconde dentro a questo vecchio cuore, quante mani ha stretto queste mani prima di trepare. Mi è rimasto un po' di tempo, mi è rimasto ancora un po' di voce, prima di non dire camomile il segno della croce. Mi è rimasto un po' di tempo, mi è rimasto ancora un po' di voce, prima di non dire camomile il segno della croce. Grazie. 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 Grazie.